Musica Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale con la cronaca. Il questore di Padova in questi giorni ha voluto assegnare i nuovi e diversi incarichi a due suoi nuovi funzionari. Il nuovo dirigente del commissariato Stanga è il dottor Rocco Ciriolo, mentre il commissario capo, dottor Marco Magnoni, lascia il commissariato per rivestire l'incarico di funzionario addetto alla squadra mobile. Rocco Ciriolo dal 1990 alla questura di Padova, dopo alcuni anni in servizio presso la locale procura della Repubblica, ha prestato servizio anche presso la DIA di Padova. Nominato funzionario a marzo del 2020 e è stato responsabile dell'ufficio passaporti della divisione Pasi della Questura. Un'altra impennata di contagi Covid in Veneto con 2317 nuovi casi in 24 ore. I decessi sono stati 35, lo riferisce il bollettino della Regione Veneto. Era dal 13 marzo scorso che il Veneto non registrava un dato giornaliero così alto di positivi al tampone. Sale ancora il numero dei pazienti Covid ricoverati nei reparti non critici degli ospedali, 1942 più 45 rispetto alle ultime 24 ore, mentre scende di tre unità quello dei posti occupati nelle terapie intensive, sono 299. I soggetti attualmente positivi sono più 30 rispetto a ieri. Scatta l'allarme per il proseguimento in Veneto della campagna vaccinale contro i tempi previsti. C'è il rischio di un forte rallentamento, così ha spiegato l'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, oggi perché le scorte di fiale dei magazzini si stanno esaurendo e quindi ritardano quelle in arrivo a frenare la corsa al vaccino, solo in particolare le 38 mila dosi di Moderna, il vaccino Moderna, che anziché domani arriveranno venerdì, e quelle di AstraZeneca che avremo probabilmente sabato mattina. Vediamo. Per quanto riguarda invece la campagna vaccinale va molto bene, ieri è stata la giornata in cui abbiamo vaccinato maggiormente, quindi abbiamo toccato il picco più alto con 35.464 somministrazioni, 35.464, poi so che più tardi vi arriva anche il report completo con tutti i numeri. Quindi abbiamo oggi, noi abbiamo un totale di 868.537 dosi somministrate, prima dose, e 245.316 invece cicli completi, quindi queste sono le persone che hanno completato il ciclo con prima e seconda dose. La percentuale di popolazione ovvero 80 che è stata raggiunta fino a ieri è del 65,1%. Dovevano arrivare domani le 38 mila dosi di Moderna, invece arrivano venerdì, e AstraZeneca e le 100 mila dosi previste per il Veneto, io dico sempre, insomma la nostra parte, che doveva arrivare oggi, arriverà qui, perché arriva a pratica di mare, tra giovedì sera e venerdì mattina, quindi noi ce l'avremo probabilmente sabato mattina. Quindi voi capite che sballando tutti gli arrivi delle forniture ci sono uslo, tipo cito quella Euganea, che prima il direttore Ligi Fortuna mi diceva che riescono a vaccinare tutti gli over 80 convocati oggi e domani, venerdì probabilmente li devono sconvocare. Ancora la cronaca, sono proseguite nella giornata di ieri le ricerche di Mattia Fogalin, 21enne Padovano, scomparso dal nulla la notte tra domenica 21 e lunedì 22 marzo. In questi giorni anche le tv di carattere nazionale e quelle private stanno seguendo la vicenda con lunghe dirette dagli argini del Bacchiglione e del Piovego. La Guardia di Finanza di Conegliano, in provincia di Treviso, con il supporto del rispettorato centrale Qualità e Repressione delle Frodi di Susegana, hanno sequestrato in queste ore mille litri di grappa distillata abusivamente in un'azienda vinicola della sinistra Piave. Ieri pomeriggio, nel corso dei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, il personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto Cammesi Mohamed, 22enne cittadino tunisino, sorpreso a cedere droga nel parcheggio di un supermercato a bordo di una bici. I poliziotti erano a Vigonza, in via Udine, dove hanno notato il giovane muoversi con fare guardingo a bordo di una bici all'interno del parcheggio di un supermercato. Un uomo aveva appena acquistato dal pusher ovviamente sei dosi di cocaina e pagate 420 euro. Il pusher è stato quindi tratto in arresto, portato all'ufficio immigrazione, che, esaminata la sua irregolare presenza in Italia, ne ha disposto l'accompagnamento coatto presso il centro di permanenza e l'impatri a Gradisca di Sonzo, in provincia di Gorizia. Alle 11 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via dei combattenti in croce con via degli Alpini a Sovizzo, nel Vicentino, per il rovasciamento di un'auto su un fianco dopo la perdita di controllo della conducente che è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Vicenza hanno messo in sicurezza l'auto ed è estratta l'anziana signora rimasta bloccata al posto di guida. L'anziana è stata quindi stabilizzata dagli operatori del Suem 118 e quindi trasferita in pronto soccorso sul posto la polizia locale per capire la dinamica del sinistro. Un tir turco adibito a trasporto di rotoli di carta da 1,5 tonnellate ciascuno che percorreva la tangenziale di Padova Est per fare il ritorno in Turchia è collassato sulle paratie laterali a causa del carico mal assicurato. Solo per un caso fortuito il carico non è caduto sulla sede stradale dove avrebbe potuto causare gravi danni agli automobilisti in transito. A quell'ora proprio questi ultimi hanno alertato la centrale operativa della polizia locale di Padova che ha coordinato l'attività di messa in sicurezza dell'area. Al conducente del tir sono state contestate violazioni in merito all'errata sistemazione del carico e al mancato rispetto dei tempi di guida del veicolo. Torna a parlare il comitato no rotaie sul secondo tram arrivato a Padova l'altro ieri che, a detta dal comitato attraverso la sua portavoce Liliana Gori, è uno di quelli rifiutati anni fa da Latina e non risulta essere un mezzo destinato al progetto SIR 3 ma destinato invece ad afforzare la linea SIR 1 esistente in cui ad oggi stranamente nessuno sembra aver visto ciccolare il mezzo 19 arrivato invece lo scorso gennaio in pompa Magna. Probabilmente non tutti sono a conoscenza di Chiara Liliana Gori che è portavoce del comitato no rotaio. Nella delibera dell'aggiunta comunale è stato specificato che per l'acquisto dei mezzi rigenerati di Latina e quindi destinabili al SIR 3 è necessario il benestare del MIT cioè il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Prosegue sempre Liliana Gori con quali mezzi finanziari sono stati quindi acquistati i quattro cassoni di Latina in arrivo dalla Francia? Sono tutti mezzi destinati al SIR 1 e non al SIR 3 per una esigenza di manutenzione ordinaria e straordinaria dei vecchi mezzi già in attività? Domande alle quali il comitato no rotaio e ai cittadini padovani non hanno ancora avuto una risposta perché se sono mezzi destinati al SIR 1 si smette di fare della spicciola propaganda per un SIR 3 che forse non vedrà la luce o sarà un annoso ed interminabile cantiere. Urge quindi un chiarimento dagli organi ufficiali per evitare che vengano spesi soldi pubblici del contributo statale, aggiunge la Gori per acquistare quindi mezzi prima ancora di avere un progetto approvato. Parliamo di sciopero, ancora sciopero nel comparto della logistica questa mattina davanti a Palazzo Santo Stefano sede della Prefettura di Padova si sono trovati i dipendenti della FedEx TNT iscritti al sindacato Cobas che accusa la complicità della CGL con FedEx che avrebbe deciso di assumere direttamente tutti i dipendenti di Farum che operano nel magazzino di Padova la principale motivazione secondo i Cobas è da scrivere a FedEx la natura economica accordata con CGL per non doversi trovare nella condizione di far fronte ad aumenti di costi dovuti a miglioramenti economici e ritornare a praticare il contratto nazionale e non più avvalersi di cooperative adottando quindi il sistema prendere o lasciare vediamo siamo qui oggi perché abbiamo pensato che è fondamentale venire qua davanti alla Prefettura abbiamo chiesto un incontro al Prefetto perché riteniamo che si è creata una situazione molto critica all'interno di questo magazzino importantissimo della logistica che è FedEx che ha deciso unilateralmente di internalizzare i lavoratori che è un obiettivo che noi abbiamo sempre rivendicato ma poiché hanno coinvolto solo i sindacati confederali CGL e CGUIL che rappresentano il 20% dei lavoratori questa operazione si configura in realtà come da una parte una necessità economica perché non è più conveniente mantenere la società l'SRL dall'altra come una volontà politica di far fuori l'esperienza di ADL Cobas all'interno di questo magazzino è un'esperienza che dura ormai da 15 anni e che ha contribuito a cancellare quelle forme di schiavitù che esistevano fino a pochi anni fa il sindaco Sergio Giordani con l'ordinanza 15 del 30 marzo 2021 visto il perdurare della situazione di emergenza sanitaria ha disposto una proroga fino al 30 giugno 2021 delle disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale relativa ai criteri per il rilascio o l'ampliamento delle concessioni di suolo pubblico per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande già prorogate, lo ricordiamo, fino al 31 marzo e naturalmente la proroga sempre fino al 30 giugno 2021 della validità delle concessioni di suolo pubblico comprese quelle in cui era stato chiesto l'ampliamento che scadevano sempre il 31 marzo una decisione che permetterà ai baristi e ristoratori di continuare a disporre dei plateatici allargati adesso che la bella stagione permetterà una volta usciti dalla zona rossa di consumare all'aperto in situazioni di massima sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid in questo modo si agevola una categoria in difficoltà e si permetterà ai cittadini di frequentare con maggiore sicurezza gli spazi aperti di bar e di ristoranti vediamo si viene prorogata fino a fine giugno cioè fino a quando al momento sussiste la gratuità dello spazio pubblico assicurata dal decreto sostegni in sostanza tutti i bar e ristoranti che hanno una concessione di suolo pubblico se la vedranno automaticamente prorogata fino a fine giugno in modo da snellire tutte le procedure ma soprattutto per dare la possibilità di continuare questo piano straordinario per l'uso del suolo pubblico per tavoline e sedi in modo che siano maggiormente distanziati tra di essi e quindi da un lato diamo una mano a bar e ristoranti per questo momento di difficoltà auspicando una ripartenza delle loro attività il prima possibile dall'altro mettiamo in condizioni anche i clienti di avere più spazio all'aria aperta come è stato in tutti questi mesi che abbiamo alle spalle in modo che sia più salutare e anche frequentare questi posti e ovviamente noi abbiamo già predisposto la durata di questo piano straordinario per i plateatici anche fino alla fine dell'anno perché con la soprintendenza che ringrazio abbiamo già accordato una deroga ai criteri definiti dalla soprintendenza fino al 31-12 anche la procedura semplificata definita dal decreto sostegni prevede un lasso temporale fino al 31-12 quindi siamo pronti a fare ulteriori deroghe per coprire tutto l'anno chiaramente adesso le facciamo fino al 30 giugno perché la gratuità è fino al 30 giugno ma possiamo poi proseguire per il resto dell'anno l'importante è ad essere al fianco di ristoratori baristi e imprese in questo momento difficile e di permettere un uso straordinario dello solo pubblico che sia adatto alla situazione di emergenza covid che non è ancora finita viene pubblicato oggi l'annunciato bando frutto della decisione del sindaco della collaborazione tra gli assessorati e del lungo confronto nelle commissioni consigliari che ha il duplice scopo di dare un sostegno concreto ai lavoratori e alle lavoratrici dello spettacolo e della cultura l'avviso pubblicato si rivolge a due categorie di professionisti, imprese e associazioni che potranno fare domanda la prima categoria ha un fondo di 50 mila euro si rivolge in particolar modo agli operatori della cultura tra cui artisti, tecnici e compagnie che potranno presentare delle piccole progettualità anche come singoli fino a 5 mila euro con l'obbligo che vengono quasi totalmente investiti nella retribuzione dei lavoratori e delle lavoratrici con determinate forme contrattuali la seconda categoria invece premia la progettualità più estesa come festival e rassegne fino a 20 mila euro potranno partecipare associazioni e imprese anche in questo caso il 60% dei fondi dovrà essere destinato ai lavoratori con determinate forme contrattuali ovvero quelle che garantiscono un riconoscimento effettivo della professione il bando è già disponibile su Padovalet vediamo arrivano 200 mila euro per sostenere i lavoratori e i lavoratrici lo spettacolo e la cultura e per dare eventi di qualità alla città di Padovalet siamo partiti con il bilancio di quest'anno riconoscendo un problema un tema importante la cultura, lo spettacolo, i lavoratori e i lavoratrici dello spettacolo hanno la luce spenta su di loro e l'hanno detto in tutte le forme ed era giusto riconoscere questo contributo alla città un avviso pubblico quindi 50 mila euro più 150 mila euro con dei target differenti per dare di nuovo respiro a un comparto che ci nutre tutti e che invece in questo momento non è nutrito l'estate sarà sicuramente un'estate particolare il mondo della cultura sia per quanto concerne il teatro la danza, i musicanti ha subito una contrazione delle sue possibilità si parla spesso di situazione drammatica e critica ecco perché abbiamo deciso di sostenere questo mondo questi lavoratori ma tutti gli organizzatori di eventi dando maggiori risorse al settore quindi avremo la possibilità di creare opportunità di scambio e di incontro in una moltiplicità di luoghi non solo i luoghi tradizionali ma anche ulteriori location quello che è importante è che c'è una fortissima domanda dopo un anno di Covid l'opinione pubblica padovani i padovani hanno bisogno, hanno voglia di socializzare noi stiamo creando a livello di quartieri e di periferie una notevole e innovativa offerta di politica culturale che crediamo risponderà alle aspettative e alle esigenze di chi ama e di chi vuole fare cultura quindi quest'estate sarà un grande incontro per chi organizza eventi, chi fa arte e chi ama assistere agli spettacoli culturali questo faremo e ci auguriamo che sia l'ultima estate Covid bene, è tutto per questa nostra edizione del giornale vi ricordo il nostro sito www.caffetv24.it per rimanere sempre aggiornati anche utilizzando le nostre pagine social www.caffetv24.it